we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video la faccio comunque la sfida la faccio comunque io la voglio provare ugualmente sfida esotica sfida esotica si vince solo con armi esotiche ci si può curare solo con il cannone cura slurp ed è sponata giovanna easy ciao giova però che cosa fa dai però dai ma mi ha costato mille due sta minchiata va bene signori la situazione è facile cioè è difficile scusatemi bisogna fare subito subito un cecchino quello di splod vanno assolutamente recuperate non posso curarmi con questi non posso usare quest'arma andiamo non hai tempo xyuder devi muoverti benzina canna pesca cecchino di splod ok non posso prendere lanciarazzi una sfida esotica ah ma che c***o pesco tanto non puoi usarli pesci bisogna andare subito a moli è il pump esotico e ma anche la pistola non è male non mi piace tanto la doppietta raga andiamo 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 è bella questa challenge ma è un disastro mi serve la pistola silenziata mi ha finto il carburante ma no ragazzi io non commento neanche non commento neanche perché non ha senso commentare andiamo bisogna assolutamente raggiungere moli e poi da lì sto munizioni materiali non è facile come challenge è il pump sarebbe tanta roba a me non piace con la doppietta raga andiamo 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 27 colpi sul cecco non sono male cerise spero non gli abbiano preso la pistola ok ok e mo ce ne andiamo non è un problema con la prima se con calma ragazzi via in safe andiamo vediamo se c'è il manichino se c'è il manichino c'è il pump c'è prendiamolo macchina lì davanti signori più di così non si può fare cioè mi piace anche l'altra pistola ma non la prendo ho speso l'ira di dio ho speso l'ira di dio lava sulla montagna dietro fa niente fa niente basta i colpi li abbiamo raga farmiamo quello che da tanto ricordi che hai il cecchino sul 2 eh devi essergli in faccia con questa adesso sembra pulita la situazione vada via porcellino vada via non può stare qua glielo dico ogni volta salutiamo porcellino questa pistola è devastante ragazzi siamo dentro in 9 signori solo armi esotiche mi bastano questi mazzi signori no fear vado se la vince ci butta dentro qualcosa il quasar no no ma questo io la sto facendo ma il donatore hanno in gola eh in gola xuder in gola let's go non è finita via 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 è troppo forte questa pistola raga andiamo 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 ok curati full non ho ancora utilizzato il cecco è devastante eh il pompa è imbarazzante raga a me non piace questa doppietta per questo ho voluto prendere anche la pistola mentre invece il cecco non è così schifoso vediamo un po' com'è la storia siamo entro in 4 per capire bene dov'è la gente prima di azzardare io buildo io buildo raga eccolo la non è facile al prossimo file dentro eh al prossimo file dentro devo capire come se la giostrano loro il tipo è sotto la ma dov'è l'altro io vorrei pusharlo ma sull'1v1 in modo da avere la certezza che non entra più nessuno vorrei provare vorrei provare ad entrargli con con l'arma esotica alla fine ma non capisco dov'è l'altro piu 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 dove va scappato però sappiamo dove sono tutti e due vieni che ti entro in gola è molto forte veramente imbarazzante questa doppietta non è facile non posso parlare troppo scusatemi non sono forti eh non sono forti raga si può fare attenzione al rinculo qui eh attenzione al rinculo con calma non è facile non è facile dove entrare Deve entrarmi nel box e lo devo distruggere con due colpi di doppietta Non c'è un'altra soluzione Io c'ho questo Tu spiegami come ti curi Ah spiegami come ti curi Eh attenzione al rinculo Deve entrare nel mio box E poi due sberli di doppietta Let's go Su Su Non lo senti da dove arrivano i colpi Con la pistola Non lo senti da dove arrivano i colpi Con la pistola Andiamo Mi chiamano Xyuta James Xyuta Easy Ah Money time Money 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 Giala giala Ma cosa fa Grazie mille Eeeh Si Mmm Add